Io sono d'accordo su una parola che ha detto Di Magistris, che è l'autogestione della pandemia. Questo purtroppo in effetti è accaduto, ha parlato di tamponi, contatti stretti e quant'altro. Il panico ha generato questo, ha generato una richiesta di esami quando non servivano, sostituzione della quarantena con il tampone, perché molte persone, tu le senti, io ho fatto il tampone, sono negativo, posso andare in giro? No, se sei un contatto stretto, tampone o un tampone, tu devi fare la quarantena. E questo ha portato chiaramente a una fuga in avanti del virus. Ma poi mi chiedo una cosa, quanti anche degli amministratori locali sono riusciti a fare rete con le associazioni, rete con le chiese per conoscere la mappa delle fragilità? Perché questo virus uccide purtroppo gli anziani. Quanti hanno fatto una mappa delle fragilità sul territorio, anche nei piccoli territori? Quanti sono andati a parlare col sacerdote della chiesa? Quanti sono andati nelle associazioni a cercare di fare una mappa e lì agire? Non è solo un problema sanitario, è un problema che secondo me è basato su una scarsissima comunicazione, informazione e comunicazione a tutti i livelli. E poi Bassetti...